Buonasera, questo video per fare la consueta panoramica generale sulle principali piazze finanziarie internazionali a metà settimana, oggi giovedì 13 gennaio, sono le 16.30, quindi metà seduta del pomeriggio ci avviamo verso la conclusione. Parto come al solito dalla borsa italiana che si trova al di sotto di una trendline discendente, visto che dopo aver toccato lo scorso 5 gennaio un massimo molto importante, un massimo di periodo molto importante sul livello 28.095, quindi oltre la soglia nell'intraday battuta del 28.000, poi in realtà le quotazioni sono state respinte, il mercato è tornato indietro fino addirittura al livello 27.150. Io ritengo che questo sia un livello molto importante perché è già stato toccato più volte e da volte ha fatto funzione di resistenza, come è avvenuto ad inizio dicembre, e poi ha fatto, come invece è avvenuto successivamente, ha fatto da supporto a fine dicembre, da lì i prezzi sono partiti per andare verso il 28.000, quindi soglia molto importante, l'analisi tecnica, d'altro canto ce lo dice, i livelli molto importanti prima ti fanno da resistenza, poi ti fanno da supporto, poi torno ad essere resistenza, poi ancora supporto, sono livelli che vanno assolutamente lavorati. Al momento stiamo rimbalzando su questo supporto del 27.150 con qualche seduta positiva, ma non credo che il mercato abbia alcune intenzioni di tornare verso il 28.000, credo anzi che questo mini rimbalzo che c'è stato in queste ultime tre sedute sia un fuoco di paglia, credo e qui mi espongo per quanto riguarda la seduta di domani e anche la settimana prossima in un'ottica previsionale, in un ritorno dei prezzi verso nuovamente il 27.150, quindi prezzi che potrebbero tornare sotto il 27.500, quindi andare oltre, nel senso di ancora più sotto, e quindi poi accelerare definitivamente al ribasso sotto il 27.000, 26.800 dove staziona in questo momento, 26.850 per la precisione, l'indicatore super trend. Quindi la mia visione e previsione sul mercato italiano e anche un po', vedremo dopo, sulle borse azionarie, è che questo mini rimbalzo abbia un po' il fiato corto, ma i prezzi poi tenderanno a scendere e prevedo un gennaio con chiusura di performance negativa. La situazione è analoga anche sul DAX, il mercato tedesco, il principale europeo, che come si vede nelle ultime due sedute, sta realizzando due pattern, che sono due doji fondamentalmente, cioè due configurazioni dove aperture e chiusura sono sullo stesso livello e anche con 3D in range giornaliero piuttosto ristretto. Questo sta a indicare una generalizzata indecisione da parte degli operatori, è vero che non scende, però è altrettanto vero che non sale. Sta sempre fermo lì, molto vicino al livello 16.000, ma senza avere mai la forza di chiudere sopra questo livello. Quindi nell'intraday, l'ha fatto ieri, l'ha fatto oggi, ci va sopra, tenta di romperlo, poi alla fine viene respinto. Quindi finché chiude sotto il livello 16.000 vale quella che è la mia previsione, cioè di un mercato che non ha la forza di continuare a salire, che non avrà la forza per tornare verso il 16.274, che è stato il massimo storico realizzato sul livello 16.274 lo scorso 5 gennaio, massimo storico del DAX, quindi appena realizzato, ma secondo me non ha nessuna intenzione di arrivarci, e anzi credo che finché rimaniamo sotto il 16.000 con chiusure daily sotto questa soglia, il mercato prima o poi cederà e accelererà al ribasso fino ad andare addirittura verso il 15.600, dove anche in questo caso staziona l'indicatore supertrend. Passando oltre l'oceano al mercato americano, anche qui la situazione è analoga. Più evidente il rimbalzo di queste ultime sedute a causa di questa, chiamiamola, pin bar di lunedì scorso, del 10 di gennaio, dove ha tentato di violare al ribasso la soglia del 4.650 e anche l'indicatore supertrend, ce la siamo vista brutta quel giorno, soprattutto nella prima parte di seduta, ribasso nell'intraday completamente riassorbito. Questo ovviamente era un segnale di forza, perché vuol dire che i compratori hanno ripreso possesso della situazione e quindi effettivamente il rimbalzo ci stava, era stato ampiamente previsto ed era ampiamente prevedibile. Adesso però abbiamo superato la media mobile nuovamente, però a questo punto anche la giornata di oggi è una giornata interlocutoria, dove effettivamente si dimostra come i prezzi non abbiano più voglia di salire, ma si mantengono appena un po' sopra il livello 4.710. e credo che anche qui pian piano il mercato tenderà a scendere per le prossime sedute e per la prossima settimana assisteremo ad un movimento negativo, quindi direi che questo rimbalzo si è fondamentalmente esaurito e non abbia forza di tornare verso il massimo storico, anche qui è realizzato da poco, un giorno prima rispetto al mercato europeo è stato realizzato il 4 di gennaio sul livello 4.808, però questa volta non credo, anche qui su questo mercato non credo che si avrà la forza per andarlo a raggiungerlo e a batterlo, ad aggiornarlo come invece ci ha abituato per tutto l'anno scorso. Questa volta credo che sarà molto più difficile. Più difficile ancora, passando alle commodities e in modo particolare al petrolio, crude oil, trovare segnali operativi. Non che non sia evidente l'analisi del grafico, che è ovviamente assolutamente impostato al rialzo, ma è un mercato che sta correndo molto. Dopo il minimo toccato ad inizio dicembre, ormai è più di un mese che sta continuando sempre a salire e si trova adesso al di sopra di tutti gli indicatori che solitamente utilizzo, Supertrend, Parabolixar e Media Mobile. A questo punto le soluzioni sono due, a mio parere. Beh, innanzitutto, anzi forse tre. La prima è non mettersi assolutamente short, pensando che il mercato sia troppo alto, per cui non potrà fare altro che scendere. Questo è sbagliato e il petrolio già in passato ce lo ha insegnato. Quindi non mettersi short. Secondo, mettersi long. Questo sì, ma quando? In teoria ci si può mettere long anche subito, con un obiettivo di prezzo che potrebbe essere target rialzista, quindi 85 dollari a barile, o altrimenti aspettare un ritracciamento di qualche seduta che possa portare i prezzi verso i 79, 78 dollari a barile e a quel punto rimettersi nuovamente in posizione long. Di sicuro l'operatività è long. Chi è coraggioso può già farlo adesso sul livello 82, con l'obiettivo 85. Chi è più prudente e vuole aspettare un ritracciamento, secondo me deve aspettare, ed è una buona occasione d'acquisto, nuovamente il ritorno verso 79, 78 dollari al barile. Decisamente interlocutoria invece la fase che sta attraversando l'oro, il gold, che sebbene sia tecnicamente al di sopra di tutti gli indicatori che assolutamente guardo, super trend, parabolic e media muova, in realtà non sale. Non sta salendo, ma sta avendo un movimento laterale, sì, assolutamente orizzontale, assolutamente in trading range. Finché non esce da questa congestione, che tra l'altro è anche abbastanza ampia, non si va da nessuna parte e non conviene assolutamente operare, a meno che non si voglia operare nell'intraday. Comunque per quanto riguarda l'operatività long, io la vedo solo sopra 1830 dollari l'oncia, l'operatività short la vedo solo sotto i 1780 dollari l'oncia. Quindi, ripeto, 1830 long, 1780 short. D'altro canto, stiamo così navigando in questo ampio trading range di 50 dollari, ma senza alcun tipo di direzionalità, anzi, direi, ripeto, abbastanza forviante, perché gli indicatori ci dicono sentiment positivo, secondo quello che è la loro classica definizione, in realtà il mercato non sale. Quindi c'è qualcosa che non va, c'è qualche divergenza che può essere anche pericolosa dal punto di vista operativo. Individo questi due livelli, una volta uscito da uno di questi due livelli, o a rialzo o a ribasso, solo in questo caso consiglio l'operatività. Infine, uno sguardo al mercato valutario, al principe dei cross, l'euro-dollaro, che finalmente ci dà una bella soddisfazione. Dopo più di un mese trascorso senza segnali operativi interessanti, con un'analisi abbastanza noiosa, che ci suggeriva sempre e solo movimento laterale in orizzontale in 3D range, proprio nella giornata di Iri c'è stata la fuoriuscita da parte di questo canale, nella parte alta del canale, con la rottura del livello 1,1385-1,1390. Quindi a rialzo, e quindi movimento rialzista, che a mio parere ha tutto lo spazio per continuare, almeno fino a 1,15. Quindi rivincita, questa volta sembrerebbe essere l'euro ad aver vinto sul dollaro, e credo che il mercato sia impostato al rialzo. A parte che nella giornata di oggi c'è un piccolo ritracciamento nell'intraday, cosa che potrà forse avvenire anche nella seduta di domani, però la settimana prossima lo vedo assolutamente rialzista. Diciamo che solitamente è un po' come una bottiglia di spumante a cui togliamo il tappo dopo essere stato compresso per tanto tempo. Finalmente diciamo che il rumore, se non altro, e la forza e la pressione con il quale il tappo viene stappato, è molto forte. E di conseguenza io vedo un trend rialzista nel breve termine per quanto riguarda l'euro d'oro, che potrà andare come primo target 1,15, ma nulla vieta che possa estendersi anche oltre 1,15,50, forse, nella migliore dell'ipotesi, anche 1,16. Di sicuro il vento è in poppa per l'euro rispetto al dollaro. Io vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione e come al solito vi auguro buon trading. Grazie. 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 Grazie.